Si chiude il mese Mariano e per l'occasione l'Arcivescovo di Napoli, Crescenzio Sepe, ha voluto affidare la città alla Madonna. Lo ha fatto nel corso di una cerimonia che si è svolta davanti a migliaia di fedeli in Piazza del Gesù. L'icona della Madonna è stata portata in processione partendo dalla Basilica di Santa Chiara fino al palco sistemato in piazza. All'evento una grande partecipazione delle comunità parrocchiali, delle associazioni, dei movimenti e dei gruppi ecclesiali. E' il secondo anno consecutivo che il Cardinale Sepe ha dato vita alla celebrazione. Nel corso della sua preghiera il Cardinale ha voluto affidare alla Madonna i giovani e la gente di Napoli per le difficoltà che quotidianamente vivono per la mancanza o la perdita del posto di lavoro. L'Arcivescovo ha poi voluto ricordare anche lo spirito e le finalità delle iniziative messe in campo durante il Giubileo per Napoli.